Io da questa avventura mi aspetto di portare a casa una nuova esperienza, di comunque conoscere nuova gente e soprattutto diciamo di arricchire un bagaglio professionale. Te lo dirò alla fine? Nel senso che preferisco proprio vedere, godermi un po' quello che sarà e poi ve lo dirò alla fine. Non lo so, prendo tutto, nel senso ripeto al massimo abbiamo fatto un'esperienza diversa dal quotidiano. Niente, sono tranquilla, è andata bene, mi sono piaciute molto comunque le osservazioni che mi hanno detto all'interno della giuria, quindi mi fa molto piacere, è stata una bella esperienza. Diciamo che a parte il mare un po' ammasso, è andato bene, nel senso che mi è piaciuto quello che comunque ci è stato spiegato, quello che comunque mi hanno passato, quindi sicuramente è stato molto interessante, anche conoscere proprio dagli anni passati un ripasso molto positivo.